Roma deve essere una città sempre più verde, sempre più sostenibile e sempre più in movimento. Quest'oggi lanciamo qui a Roma un servizio di scooter sharing totalmente elettrico, quindi completamente sostenibile. Sono in circolazione quindi 240 scooter che potranno essere utilizzati in alcune zone della città ed anche in alcuni punti importanti, quali le Università Roma Sapienza e Roma 3, nonché anche le principali stazioni qui della città. Siamo sicuri che questo è un servizio che verrà apprezzato, un servizio basato sulle due ruote e che quindi questo è uno dei primi passi che l'amministrazione sta compiendo per portare adesso in Roma una città veramente verde, una città veramente sostenibile.